Siamo arrivati alla venticinquesima edizione di Settembre Musica, un quarto di secolo e direi proprio che il festival tutto sommato è in buona salute, ma meglio di tutto per dimostrarlo è gettare uno sguardo sulla programmazione di questa venticinquesima edizione appunto. C'è un protagonista secondo una consuetudine ormai abbastanza antica nell'ambito della musica contemporanea, un personaggio singolare, il compositore Salvatore Sciarrino, che è essenzialmente un autore di teatro, l'autore di una drammaturgia fatta di silenzi, di sospiri, di ombre, di musica, direi quasi una radiografia, è come se noi vedessimo un dramma ai raggi X. E di lui ci saranno molte cose che costituiranno un momento di attenzione fondamentale. Il teatro è un pochino il protagonista credo di questa edizione venticinquesima del nostro festival, naturalmente non è un teatro convenzionale, noi non rappresentiamo nella traviata, nel rigoletto purtroppo, per questo abbiamo un ente lirico efficientissimo, ma è un teatro sui generis. Avremo la prima esecuzione mondiale addirittura di una nuova video opera del compositore americano Steve Reich, si intitola Three Tales, ovvero tre racconti, e sono tre racconti dedicati alle catastrofi della tecnologia. È un'idea veramente originale in questo senso, avremo poi un momento di riflessione o forse semplicemente di festa, ricordando il teatro musicale di Kurt Weill, e quindi un po' direi la fonte dalla quale è originato tutto il teatro musicale, cioè l'Orfeo di Monteverdi. Ci sono tanti concerti sinfonici, con orchestre belle, illustrissime, c'è l'orchestra Filarmonia di Londra, che viene a Torino con la direzione di Christoph von Dornan, uno dei più grandi direttori del mondo, c'è l'orchestra nazionale della RAI con il pianista Christian Zimmermann, c'è l'orchestra di Santa Cecilia con Myung Wun Chung, e Soji, che è, ricordatevi questo nome, straordinario, una giovanissima e prodiciosa violinista giapponese. Ci sarà poi l'orchestra revolutionnaire e romantique di John Elliot Gardiner, impegnata in un'impresa colossale, cioè la Miss Solemnis di Beethoven. Ma ci sono naturalmente degli sconfinamenti, Settembre Musica si è distinto per questa volontà di continui deragliamenti culturali e estetici negli ultimi anni, uno di questi, per esempio, porterà quel personaggio che non saprei neanche definire, è veramente un fenomeno incredibile, una specie di geniale follia della voce, dell'apparato fonatorio, cioè Bobby McFerrin, questo incredibile vocalist. Poi avremmo una, la vorrei chiamare una specie di liturgia underground, rivolta a Gustav Mahler, che sarà ufficiata dal jazzista americano Yuri Kane, che è una delle voci più intriganti dell'orizzonte contemporaneo. E poi ci sono dei ricordi, qua e là, dovuti quasi direi alle coincidenze della storia. C'è per esempio una esecuzione che si svolgerà in due concerti, del ciclo dei preludi e fughe per pianoforte di Shostakovich, una specie di ricalco del clavicembalo ben temperato di Bach, però irrorato dagli umori del canto popolare. E poi c'è un altro anniversario che scade quest'anno, cento anni fa nasceva uno dei grandi capolavori di Schoenberg, cioè la notte trasfigurata, quel Verkler tenacht per Sestetto d'Archi. Lo eseguiremo naturalmente, ma qualcosa di più, cercheremo di fare una specie di festa, un remembering intorno a questo capolavoro che ha dischiuso la strada a avventure intellettuali incredibili. Così come in fondo il nostro festival si propone di fare ogni anno, aprire la strada a tante e tante avventure dell'intelletto e del cuore.